Come iniziamo? E se iniziassimo con c'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco, ecco, ecco come si inizia un film! Ciao! 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 Allora, stiamo partendo per Zerch, oggi il primo sabato che stiamo qua in più agosto, un bacio a tutti, ci vediamo alla stessa! Viva le Cune! Viva le Cune! Viva le Croate! E' la puttana! Cune! Hey, hey, hey! Come on then! Let's go! Yeah! Let's go! All right, all right! OK, all right, OK! Tsunami! Go! Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.